Sì, pienamente d'accordo. Purtroppo ci ritroviamo oggi con due punti, nonostante tre prestazioni ottime direi, non neanche buone, ma ottime. Ho avuto il secondo tempo un gol con Zola, dove però eravamo nemmeno. Sono state tre prestazioni comunque ottime e meritavamo sicuramente qualcosa di più. Sono contento già, io cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno, sono contento oggi di essere uscito senza aver subito gol, quindi pensiamo in positivo. I gol arriveranno anche perché le occasioni le creiamo, quindi ci va ogni tanto anche un pizzico di fortuna. Io penso che sia questione di tempo, comunque stiamo lavorando bene, ci stiamo cominciando a conoscere, alcuni ragazzi sono arrivati leggermente dopo. Io vedo il bicchiere mezzo pieno nonostante dei due punti che comunque si fa un po' girare le scatole.